Io sono un ragazzo alto e non ho mai vissuto sulla mia pelle cosa significa essere un ragazzo basso in questa società, ma credo di comprendere almeno in parte quali tipi di disagi e quali difficoltà può sperimentare una persona che vive questa condizione. L'ho capito forse davvero per la prima volta quando, utilizzando le dating app, mi sono accorto che molte ragazze chiedevano di lasciar perdere se non fossi stato più alto di un metro e ottanta. Una preferenza legittima, per carità, non sono il tipo di persona che giudica le preferenze sessuali degli altri, anche se penso che potrebbe essere espressa magari in una maniera più sensibile, ecco. Ma in ogni caso, ogni volta che mi trovavo a leggere questo tipo di vincolo, non potevo fare meno di pensare che fortuna che sono alto. Ma cosa significa essere bassi? Una persona sotto il metro e ottanta è automaticamente bassa? No, per esempio la media italiana di altezza è intorno al metro e settantacinque. E dunque essere sotto il metro e settantacinque significa automaticamente avere gravi difficoltà dal punto di vista sentimentale e sessuale? No, non necessariamente, ma significa avere un criterio estetico che sicuramente risulta essere molto selezionato dalle donne. Secondo alcuni studi, infatti, le donne preferirebbero partner di circa 20 centimetri più alti di loro. Dunque, premesso che, come specificato più volte su questo canale, i criteri che determinano l'attraenza sessuale di un uomo sono diversi, tra cui c'è sicuramente anche la personalità, lo status, e dunque l'altezza e in generale l'estetica fisica non è l'unico criterio, non possiamo negare che questo comunque sia un criterio importante. E purtroppo questo gli uomini lo sanno bene a tal punto da diventarne spesso ossessionati. Secondo alcuni studi, infatti, fino al 50% dei casi di dismorfofobia maschile riguarderebbe appunto la propria statura. La dismorfofobia è un disturbo psicologico caratterizzato da un'ansia estrema nei confronti di una parte del proprio corpo. Un'ansia che va a compromettere in maniera anche profonda la propria qualità della vita e soprattutto la propria qualità relazionale. L'importanza data all'altezza dagli uomini è tale per cui, secondo alcuni studi, c'è una correlazione tra bassa statura e maggiore rischio depressivo e suicidario. E l'altezza, oltre ad essere correlata negli uomini a un maggiore successo sessuale e anche quindi di conseguenza riproduttivo, è correlata anche a un maggiore successo in ambito lavorativo e di conseguenza in ambito economico. Dunque chi è alto, buon per lui. Ma per chi invece non lo è, cosa si può fare? Pensiamo per esempio a quei casi magari appunto sensibilmente sotto la media nazionale, in Italia potrebbe essere sotto il metro e sessanta. Fino a qualche anno fa l'unica soluzione possibile era quella dell'accettazione. Individualmente o attraverso un percorso psicologico, l'obiettivo è quello di riuscire a convivere al meglio possibile con questa propria caratteristica. E io credo che questa rimanga tutt'oggi la via preferenziale. Tuttavia sta emergendo sempre di più una nuova alternativa, un'opzione che fino a non molti anni fa non c'era e che oggi invece è sul tavolo potenzialmente, ovvero la strada chirurgica. Onestamente io sono partito molto scettico su questa strada, a tal punto che ero convinto che in Italia fosse illegale. Certo, sapevo che per particolari condizioni mediche, deambulatorie, come per esempio chi nasce con una gamba più corta dell'altra, c'è la possibilità di allungare un arto. Però non pensavo che si potesse fare e qualcuno lo facesse per motivi estetici. Quando ho scoperto che questa operazione non veniva fatta solo in posti remoti del Medio Oriente, ma anche appunto nel nostro paese, ho deciso di iniziare a studiare per cercare di capire quanto effettivamente potesse essere anche da un punto di vista psicologico una strada valida, percorribile. La prima domanda che dobbiamo porci è la chirurgia estetica può essere in alcuni casi un valido strumento per perseguire il benessere psicologico dell'individuo? Molti appunto penseranno no, bisogna accettarsi così come si è. Però questa è una visione un po' limitata della realtà perché anche letteratura è dimostrato come talvolta degli interventi estetici producano dei miglioramenti da un punto di vista dell'autostima, del benessere psicologico e sociale molto elevati. Quello che sappiamo per certo è che sia il percorso psicologico sia il percorso chirurgico possono andare a risolvere parzialmente o totalmente delle ansie legate al proprio corpo. Ovviamente le due cose non sono necessariamente escludenti l'una dell'altra, anzi di solito sarebbe secondo me auspicabile fare sempre prima un percorso psicologico eventualmente se si vuole valutare anche un intervento chirurgico. Questo soprattutto per escludere che si soffra appunto di dismorfofobia. Perché se si soffre di un disturbo ossessivo compulsivo può darsi che l'origine della nostra insoddisfazione fisica non sia nel corpo ma sia legata a una nostra attitudine, a una nostra magari anche esperienza pregressa, a un trauma. E quindi cosa succede? Che eventualmente se io dovessi ricorrere alla chirurgia estetica per cercare di risolvere questa mia insicurezza, dopo quest'operazione oltre a rimanere magari insoddisfatto proietterò la mia ansia su altre parti del corpo. E quello che succederà è che io continuerò in modo ossessivo appunto a operarmi nella speranza di ridurre questa mia ansia, questa mia insoddisfazione, senza però riuscirci, spendendo tantissimi soldi e avendo ovviamente anche dei costi psicosociali enormi. Fatta questa premessa sarebbe estremo affermare che tutti quelli che vorrebbero sottoporsi a un intervento chirurgico estetico dovrebbero essere disincentivati dal farlo. Alcune persone proprio non riescono ad accettare alcune parti del proprio corpo e sarebbe forse talvolta più utile anche a livello psicologico supportarle nella decisione di intervenire chirurgicamente piuttosto che giudicarle, stigmatizzarle e di conseguenza disincentivarle. E qui arriviamo dunque alla domanda chiave del video. L'allungamento osseo progressivo degli arti inferiori, quindi l'allungamento delle gambe, potrebbe potenzialmente rientrare negli interventi chirurgici estetici in grado di migliorare il benessere psicologico degli individui? Il problema qua è che parliamo di un intervento particolarmente invasivo e doloroso. Non entrerò nei dettagli sia perché non sono un medico e sia perché non voglio turbarvi eccessivamente, ma vi basti sapere che per allungare le gambe è necessario spezzare sia le ossa che i muscoli. E voi direte, beh, però ci sono gli antidolorifici, quindi magari posso appunto ricorrere ai farmaci che mi permettono di non sentire il dolore o comunque di sentirlo poco. E qua c'è un problema. Questo tipo di farmaci entrano in conflitto con i meccanismi di rigenerazione delle ossa e dei muscoli. Per farla semplice, questi farmaci non possono essere utilizzati in maniera massicce, quindi il dolore è parte del percorso. Un dolore estremo, un dolore che porta la persona a un totale scombussolamento psicologico e a un potenziale trauma difficilmente reversibile. Immagino che come me, anche a voi, il solo pensiero di questo intervento mette i brividi, ma dobbiamo cercare di ragionare in modo razionale, pragmatico e mettere da parte appunto le emozioni, chiedendoci se questo tipo di operazione in alcuni casi specifici possa rappresentare una valida opzione per cercare di ridurre l'ansia relativa al nostro corpo. Dunque in questi casi la cosa migliore da fare è andare a vedere gli studi scientifici. Cosa ci dicono a riguardo? Chi si sottopone a questo tipo di intervento poi se ne pente? Quali sono le repercussioni sia fisiche che psicologiche a medio e lungo termine? Ebbene dagli studi che sono stati pubblicati finora e in particolare da una meta-analisi indipendente svolta da un'associazione britannica, la maggior parte dei pazienti che si è sottoposta all'allungamento delle gambe per fini estetici ha riportato degli esiti positivi. Tanto che la maggior parte di loro consiglierebbe questo tipo di intervento anche ad altre persone. Il beneficio principale ovviamente è stato quello relativo all'autostima e in particolare all'autostima fisica. Ma questo tipo di benefici non è stato riscontrato o è stato riscontrato in maniera più confusa nei casi di dismorfofobia, soprattutto per la scarsa partecipazione alle fasi post-operatorie, che come detto comportano un grande sforzo psicologico e soprattutto una grande disciplina e capacità di resistere al dolore. E se l'iter post-operatorio non viene seguito in modo scrupoloso ci sono anche maggiori rischi da un punto di vista fisico, ovvero si possono verificare maggiori complicanze che potenzialmente possono mettere in pericolo anche la deambulazione future del paziente. Però appunto le ricerche scientifiche non sono particolarmente esaustive, quindi per cercare di approfondire il tema ho deciso anche di svolgere diverse interviste. La prima è stata col dottor Guichet, medico francese e grande esperto a livello internazionale del tema. Lui ha operato in Francia, ma anche negli Stati Uniti e a Milano, e nella sua carriera ha operato circa 300 persone per fini estetici. Sia uomini che donne, anzi mi racconta che in Francia, fino a qualche anno fa, erano soprattutto le donne a rivolgersi a lui per questo tipo di intervento. Anche perché la sanità pubblica francese rimborsava le spese per le donne sotto il metro e 45 e per gli uomini sotto il metro e 65. E siccome si tratta di un intervento estremamente costoso anche a livello economico, ovviamente questo tipo di fattore ha una forte incidenza. Il dottor Guichet mi ha anche raccontato però che con il tempo sono aumentati sempre di più gli uomini, fino a raggiungere i due terzi dei richiedenti totali. Ci ha tenuto però a sottolineare che solo il 15% di chi si rivolge a lui per richiedere questo tipo di operazione, poi viene effettivamente selezionato per svolgerla. Perché? Perché la maggior parte dei pazienti, almeno a suo dire, vengono scartati prima per motivi fisici e anche e soprattutto per motivi psicologici. Questo anche perché ci ha tenuto più volte a ribadire che se la motivazione non è forte, poi i rischi del post-operatorio sono maggiori. Insomma è inutile dire che è un intervento che non dovrebbe mai essere preso alla leggera. E per essere sicuro di selezionare i pazienti giusti si avvale anche di un'equipe di psicologi. Ho fatto un'intervista anche con loro ed è stata molto molto interessante. Mi hanno raccontato tutte le difficoltà sia del pre-operatorio sia del post-operatorio. Se vi interessa ascoltare le interviste interialmente, sia quella con il dottor Guichet, sia quella con la sua equipe di psicologi, le trovate su Patreon. Vi lascio il link nei commenti o in descrizione. Una delle domande principali che ho rivolto è ma quanti si pentono di questo intervento? Anche perché a livello di cronaca emergono di solito i casi più estremi, come quello recente di Theresia Fischer, modella tedesca che ha deciso di allungarsi le gambe di 14 centimetri, ma che oggi si dice profondamente pentita e mette in guardia a chi vorrebbe fare questo tipo di intervento dal farlo. Ma dalla sua storia emerge come lei abbia deciso di sottoporsi all'allungamento osso progressivo per pressioni subite dall'ex partner. Lei ci ha tenuto a specificare che prima di imbattersi in questa persona abusante, si piaceva a livello fisico e non si sarebbe mai sottoposta a questo tipo di intervento. E questa è una casistica che una equip psicologica e medica onesta e competente sarebbe in grado di prevenire facilmente, cercando appunto di disincentivare la persona dall'operarsi. Ovviamente però c'è un conflitto di interessi perché, essendo l'operazione molto costosa, c'è anche un interesse da parte di chi opera queste persone a accettare nuovi pazienti. Probabilmente alcuni medici tenderanno a sottovalutare i potenziali traumi fisici e psicologici del post-operatorio. La percezione delle proprie gambe staccate dal proprio corpo genera un panico viscerale che può anche rompere completamente l'alleanza tra medico e paziente. Di questo tipo di intervento in Italia ad oggi non se ne parla ancora molto, ma in altri paesi occidentali, come appunto per esempio gli Stati Uniti, le storie di uomini e donne che hanno deciso di allungarsi le gambe sono tante. Su TikTok, per esempio, ci sono ragazzi da tutto il mondo che raccontano la propria storia. E tra queste c'è anche quella di un ragazzo tedesco, alto in origine circa un metro e settanta, che vuole arrivare a raggiungere il metro e novanta. Dire che l'altezza non conta è una bugia. Molte ragazze qui sono alte uno e settanta o uno e settantacinque. Con il mio metro e settantadue non mi sentivo abbastanza uomo. Ero basso. La cosa più importante è sentirmi fiducioso di me stesso e virile. Essere così alto sicuramente aumenta la mia autostima. Ecco, in questa dichiarazione io ci vedo già alcune parole potenzialmente problematiche. Non mi sentivo abbastanza uomo, non mi sentivo virile. Parole che mi fanno pensare che ci possa essere una forte influenza del ruolo di genere maschile sulla decisione di operarsi. E in questi casi cosa dovrebbe fare uno psicologo? Cercare di decostruire questo ruolo di genere o, una volta che questo ruolo di genere è a tal punto interiorizzato, supportare la persona nella propria scelta? Anche la dismorfofobia, o come la chiamano alcuni la disforia dell'altezza, cioè il fatto di non percepirsi a livello identitario come una persona bassa, non sono sempre condizioni psicologiche palesi e di conseguenza di facile diagnosi. E anche la dismorfofobia, se fosse originata da un problema oggettivo come per esempio una statura molto bassa, siamo sicuri che in seguito a un intervento comunque non potrebbero esserci dei benefici? Anche dagli studi scientifici questo tipo di domanda non sembra aver trovato ad oggi una risposta esaustiva. Quello che sappiamo per certo è che nei casi di dismorfofobia ci sono più problemi e rischi rispetto ai casi in cui questa patologia non viene diagnosticata. Poi c'è anche un'altra questione di natura etica. L'altezza non è un fattore che di solito viene valutato in senso assoluto, ma in senso relativo al contesto. Il punto è che la bellezza rischia di essere sempre più connessa anche alla disponibilità economica. Perché non l'abbiamo detto, ma un intervento di allungamento osso progressivo arriva a costare anche circa 100.000 euro. Ovviamente dipende anche dal paese dove lo si svolge e anche questo è un tema. Perché il turismo sanitario sta aumentando soprattutto nei paesi medio orientali, dove i costi magari sono più bassi, ma anche la sicurezza è più incerta, diciamo. Per esempio alcuni studi che sono stati pubblicati sull'allungamento osso progressivo sono studi turchi. E la Turchia, dopo essere diventata una meta per per esempio il trappianto dei capelli, vorrebbe probabilmente diventare anche una meta turistica per questo tipo di intervento. Quindi capite che rischia di esserci un profondo conflitto di interessi, che rende anche la produzione scientifica su questo tema difficilmente non influenzabile da motivazioni economiche. La stessa meta-analisi indipendente che vi ho citato precedentemente pone questa questione come una delle principali. Perché nonostante effettivamente gli studi analizzati sembrano essere positivi negli esiti sia psicologici sia nelle repercussioni fisiche, comunque sono tutti studi che hanno potenzialmente dei bias di interesse da parte dello sperimentatore. In conclusione mi sento di dire che se mai vi troverete a valutare questo tipo di opzione, ammesso appunto che abbiate la disponibilità economica di potervela permettere, fatelo con grande e grandissima attenzione perché potreste anche imbattervi in persone poco oneste che vi porteranno anche a sottostimare i grandi costi fisici e psicologici che questo tipo di intervento comporta. Detto questo non possiamo neanche dire che in tutti i casi questo tipo di intervento debba essere necessariamente disincentivato. Ci sono, come mi hanno raccontato anche gli psicologi, alcuni casi dove questa operazione permette effettivamente una ripercussione positiva sul benessere psicologico dell'individuo. Ma sono casi minoritari, quindi è sempre consigliabile fare prima un percorso psicologico e psicoterapeutico eventualmente che vada a scavare sull'origine della nostra ansia fisica. Ed eventualmente solo al termine di quel percorso, che secondo me dovrebbe essere indipendente appunto non legato soltanto agli psicologi della clinica che poi si occuperà dell'intervento proprio per motivi di conflitto di interessi, solo al termine di quel percorso una persona dovrebbe valutare dal mio punto di vista se ricorrere a un intervento di chirurgia estetica per ridurre la propria ansia fisica e soprattutto se ricorrere a un intervento così tanto invasivo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ripeto, vi lascio le interviste integrali su Patreon se vi interessa l'argomento perché sono molto molto interessanti. Grazie a tutti quelli che mi supportano sul sito e che ascoltano settimanalmente i miei podcast. Mi occuperò probabilmente ancora dell'argomento perché mi interessa molto, quindi se vi interessa anche voi fatemelo sapere che magari porterò anche altri contenuti qui su YouTube. Grazie ancora, alla prossima! Grazie! 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 Grazie!